Un saluto a tutti. Un evergreen dei terrapiattisti accusare chi non è d'accordo con loro di essere pagato dalla massoneria. O perlomeno, accusare chi difende la sfericità della terra di essere pagato da massoneria, CIA, poteri forti, ecc. Da quello che ho potuto vedere, secondo loro, chi sostiene la sfericità della terra è indottrinato, se non ti lasci persuadere ti insultano in molti modo. Ma se difendi la sfericità in un video, un blog, ecc. lo fai necessariamente per chi sei pagato per farlo, o per chi sei massone, o uno della CIA, ecc. Dal punto di vista logico, come ho spiegato mille volte, questa è una tipica argomentazione a dominem, un errore logico che però convince. Essa consiste nell'accusare qualcuno, o addirittura insultare o offendere, piuttosto che contro-argomentare in modo valido e sensato. La cosa che vorrei far capire ai terrapiattisti è che ognuno di noi ha opinioni diverse, quasi certamente sbagliate, ma non c'è bisogno di pagare nessuno affinché abbia un'opinione. Volete un esempio concreto? Avete presente le illusioni ottiche? Ad esempio quella dell'anatra coniglio? Se uno vede un coniglio e un altro vede l'anatra cosa significa, che uno dei due stato è pagato? Se fai le stesse domande a più persone vedrai che non esistono due opinioni perfettamente uguali? Nemmeno quando c'è l'indottrinamento, se scavi a fondo vedrai che qualche piccola differenza c'è, ma questo è un discorso molto complesso su cui non posso dilungarmi. Io fare questa domanda ai terrapiattisti. Voi credete che la terra sia piatta da quando siete nati? Molto probabilmente no, quindi eravate pagati dalla massoneria per credere in quelle cose. La massoneria non può pagare tutti. Allora eravate indottrinati? E cosa impedisce ad un indottrinato di fare video su YouTube e difendere l'opinione che gli hanno inculcato? Anche chi ha torto può dire ciò che pensa in buona fede, anche se per assurdo fosse indottrinato, se uno è indottrinato e ha torto ovviamente non è consapevole. Prendete come esempio chi è vittima di una setta, se lo indottrinano non hanno bisogno di pagarlo o di dargli qualcosa in cambio, egli difenderà in pubblico, anche sui social media e sui forum la sua opinione. Non è detto quindi che uno sia pagato per dire certe cose, magari se uno fa parte dei vertici dell'organizzazione potrebbe essere consapevole della menzogna. Ma se uno degli indottrinati arrivasse ai vertici, scalando la gerarchia, anche al vertice ci ritroveremo persone che erano state indottrinate e che si ritrovano a indottrinare. E se i capi gli rivelassero che è tutto falso potrebbe essere un grosso problema. Potrebbe rimanere deluso e rivellare a tutti la menzogna. Quindi sarebbe a loro rischio e pericolo rivelare a qualcuno interno che ci crede per davvero che quella è una presa in giro. Basterebbe chiedere agli ex testimoni di Geova, oppure cercare interviste ad ex massoni. Finché si trovano ai gradini bassi è sicuro che non sono in cattiva fede, quelli sono convinti che quelle associazioni non sono negativi, credono che quei valori siano positivi, ma poi quando entrano dentro possono rendersi conto del marcio alla testa di quelle associazioni. Ad esempio quando vengano i testimoni di Geova a casa vostra, spesso sono in buona fede. Eppure sono addestrati a diffondere quelle menzogne senza esserne nemmeno conspevoli. Loro stessi infatti quando vengano messi di fronte all'evidenza ne escono fuori, basterebbe cercare su YouTube. Loro stessi, che divulgavano e difendevano sciocchezze, erano vittime di una setta pericolosa, senza esserne consapevoli. Capita anche che persone ai vertici poi si pentano e ne escono. Io non ho idea se ai vertici di quelle società ci siano solo persone in cattiva fede oppure se ci siano persone anche in buona fede. Se ci sono anche persone in buona fede c'è il rischio che prima o poi si pentano, ne escano fuori e testimoniano contro di loro. Lo so è un discorso contorto ma io sto cercando di renderlo chiaro. Se una persona non la pensa come voi, anche se avesse torto, non è detto che sia in cattiva fede, è pagata da qualcuno per sostenere quell'opinione, anche se la difende in pubblico, o su YouTube. E poi a giudicare dai dislike che ricevo, pare che mi conferrebbe di più essere terrapiattista. Considerate, come vi ho già detto, che Tinelli ha più iscritti di tutti i suoi detrattori messi insieme. Tranne Neurodrone che si è occupato per caso di questa teoria. Non ha un canale specializzato a demolire questa bufala, o le presunte altre bufale in generale. Ci sono canali molto piccoli come lo Samano, che merita molto di più, oppure canali con pochissime migliaia di iscritti, che si occupano di demolire la terra piatta, e hanno anche un'attività irredolare purtroppo, mentre Tinelli sforna video ogni giorno e ha un sacco di iscritti e di visualizzazioni. A me sembra che gli interessi ce li abbiano di più i terrapiattisti. Con questo video mi voglio riferire a che tempo fa fece delle liste di proscrizione, dove elencava a tutti gli youtuber che a suo dire erano pagati direttamente dalla CIA, o dalla massoneria, ma ora non c'è più traccia di questo soggetto. Io ne avevo già parlato nel video sulla presunta identità di Neurodromi Braggs Crew, e ne aveva già parlato a Quadrillante Channel, perché si tratta della stessa persona. Spero che il messaggio sia chiaro. Se il video vi è piaciuto, vi invito a lasciare un like, perché di dislike ne ricevo già troppi. Vi invito anche a condividere e a iscrivervi al canale. Per il momento è tutto, alla prossima!